Vi invitiamo oggi a partecipare all'evento di Parma prende la laurea. Il Comune di Parma e l'Università saranno lieti di cominciare a parlare con voi del futuro della nostra città, parlando insieme agli studenti, parlando insieme ai professori, parlando insieme ai rappresentanti della Municipalità per raccontarci quali possono essere le visioni del futuro. Siccome il futuro appartiene ai giovani, appartiene a chi viene a studiare Parma, sarà importante cominciare a ragionare su come vogliamo la nostra città, su quello che dovremmo cominciare a sviluppare per far sì che tutti quanti si possano trovare meglio, possano trovare migliori servizi, possano trovare un modo per vivere meglio, sviluppare meglio le proprie aspettative, le proprie abilità. Per questo i relatori vi introdurranno in quelle che sono state le esperienze già fatte, in quelle che potranno essere invece gli nuovi sviluppi della Smart City. Io nello specifico cercherò di raccontarvi di quelle che sono le peculiarità che sviluppano e caratterizzano una città come Parma, piccola capitale della Smart City. Ragioneremo intorno a una quindicina di indicatori che individuano quali sono gli ambiti in cui potremo sviluppare il nostro discorso e vi chiederò uno sforzo creativo per cercare di contribuire e raccontarci, come vedete Parma, rispetto a questi indicatori. Quindi venite con noi, cercate di darci contributi e cercate di fare in modo di partecipare insieme a noi quello che potrà essere il futuro della nostra città.